Sì, è davanti la tiria, è davanti la tiria e vince Ackerman invece il calcello per Marco Mandara vince lui Maria Rosa Maria Dioporti ce l'ha fatta ce l'ha fatta bello di qua e guarda primo Robic anche qui su Vino a Gaudemar con tutti i suoi sei Gaudemar 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 fa vincere la tappa l'Equadorego per la gioia dei suoi tifosi Gaudemar la vittoria italiana a posto diretto Giulio Ciscone bravissimo Gaudemar 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 fatti i denti per il preciano ancora fatti i denti Aghima Gaudemar 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 Gaudemar